. Valerina Marini e Geremias Rodriguez, complicità sospetta, signorini stuzzica Valeria Marini, Geremias Rodriguez e il feeling che insospettisce Alfonso Signorini, scambio di numeri e parole sussurrate. Valeria Marini e Geremias Rodriguez, ospiti ieri alla puntata di Casa Signorini, hanno attirato lattenzione di molti, soprattutto del padrone di casa. Seduti accanto i due non hanno fatto altro che chiacchierare tutto il tempo, spingendo Alfonso ad intervenire. Il conduttore, ironicamente, ha poi più volte scherzato sulla complicità nata tra i due, rivelando al pubblico e ai presenti un dettaglio da non sottovalutare. Geremias Rodriguez e Valeria Marini pare si siano scambiati i numeri di cellulare ieri sera, con la speranza forse di rimanere in contatto. Tra i due potrebbe nascere qualcosa o è solo un'amicizia innocente?. Geremias Rodriguez e Valeria Marini si scambiano i numeri di telefono, le battute di Alfonso Signorini. In puntata Alfonso è poi ritornato più volte sulla coppia, facendo notare a tutti come i due fossero poco interessati alla conversazione in sala mentre continuavano a parlare a bassa voce tra loro. Dopo aver parlato con i suoi ospiti Alfonso ha poi detto a Geremias di avere un messaggio per lui da parte di Aida Jespica. Da buon esperto di gossip però il direttore di chi ha deciso di non rivelarne è subito il contenuto. Il motivo? Ti darò il messaggio di Aida solo quando tu mi mostrerai il primo WhatsApp di Valeria Marini ha detto Signorini rivolgendosi al suo ospite. Aida Jespica, dopo Geppi nel suo cuore c'è spazio per Geremias Rodriguez. Dopo essere uscita dal grande fratello VIP Aida Jespica ha più volte dichiarato di essere felice con Geppi, suo compagno prima dell'ingresso nella casa. Pochi giorni dopo però, ritornata alla vita reale, la showgirl ha dichiarato dalla Panicucci di essere tornata single. L'amore tra lei e Geppi è raggiunto al capolinea. I suoi rapporti con Geremias avranno influenzato la sua decisione? Certo è che, ormai, se tra i due dovesse davvero nascere qualcosa nulla vieterebbe di pensarlo. Grazie a tutti per aver guardato il video.